Oltre Po Voghera parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora al numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing.com Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Oggi inizia la stagione calcistica 2016-2017. Lei segue il calcio? Beh, non proprio. Come mai? Non mi interessa tanto. Sì, abbastanza. Le piace proprio come sport? Sì, piace abbastanza. Per la carità non ci vado matto ma mi prende ecco. Sì, sì, decisamente sì. Le piace molto come sport? Sì, sì, è il primo sport che amo. C'è qualcosa che non le piace dello sport? Un sistema, un sistema troppo retributivo, diciamo. Ovvero che loro sono i miliardi e la gente muore di fame, insomma. Per quello che non mi piace tanto. Secondo lei i media danno troppo spazio a questo sport oppure è giusto? Sì. Secondo me è perché, perché è esagerato. Ci sono argomenti molto più interessanti e utili, ecco. Secondo lei i media danno troppo spazio a questo sport rispetto ad altri? Penso di sì, penso proprio di sì. A quale sport dovrebbero dare spazio secondo lei? A tutti devono dare spazio, solo un po' più equo, diciamo, un po' più onesto. Che cos'è che le piace di questo sport? In generale un po' il gruppo, è un sport di gruppo sostanzialmente, quindi a me piacciono gli sport di gruppo. Secondo lei questo è uno dei motivi per cui questo sport piace così tanto in Italia? Insomma, è risaputo che in Italia lo sport principale è il calcio. Io credo che questo possa essere uno dei motivi principali, penso perlomeno. Secondo lei i media non danno troppa attenzione a questo tipo di sport invece di privilegiarne anche altri? Sì, sono assolutamente d'accordo. Certamente è il primo sport, quindi merita rispetto in questo senso, però abbiamo tanti altri sport dove noi ci comportiamo bene, e quindi non capisco perché su questi sport qua l'attenzione sia sicuramente più bassa rispetto al calcio. Lei che squadra tifa? Juve. Come pensa che andrà al campionato quest'anno? Come gli anni scorsi, né più né meno, grosso modo così. Non vedo grandi cambiamenti. Juventus. Ma se in teoria sulla carta dovremmo essere, per lo meno per ciò che riguarda lo scudetto, dovremmo ancora vincerlo sulla carta. Poi sulla Champion, anche lì sulla carta ci siamo rafforzati, però insomma la Champion è sempre un problema quando si affronta. Finita l'estate parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot.chiocciolaocchiopavese.it Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.